Falsa partenza per il procedimento sul crollo della piazzola di sosta lungo la E45 all'altezza di Pieve Santo Stefano. Tutto è stato infatti rinviato sul banco degli imputati seduti tre dirigenti ANAS all'accusa per l'ora e quella di crollo colposo. Era infatti in programma per questa mattina l'udienza preliminare per il cedimento della piazzola avvenuta giù l'11 febbraio 2018. Si tratta della prima delle quattro indagini sulla E45 a finire di fronte ad un giudice, il GIP Fabio Lombardo. La procura di Arezzo per il crollo aveva chiesto il rinvio a giudizio di tre dirigenti ANAS della Toscana, Antonio Scalamandrè, responsabile di Aria, il capo centro Rocco Liviero e Massimo Pinelli, il capo nucleo. Per l'accusa avanzata dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi la piazzola era crollata perché per anni sarebbero stati ignorati tutti i segnali di allarme. Già nel 2011, come riporta la perizia effettuata dagli esperti, c'erano stati primi segni di cedimento, crepe aperte sull'asfalto, documentate anche da foto pubblicate sul gruppo Vergogna E45. Nel 2014 poi l'allarma l'azienda da parte di un residente ed infine l'anno successivo c'era stato un sollecito ad ANAS ad intervenire da parte della prefettura di Arezzo. Da qui le contestazioni che hanno portato i tre dirigenti di fronte ad un giudice. L'udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 30 ottobre. Non si tratta però dell'unica inchiesta sulla E45. La prima era scattata in parallelo tra le procure di Arezzo e Forlì nel 2014 per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. C'è poi un altro filone che aveva sempre avuto origine dal crollo. Nel marzo 2018 infatti i detriti franati erano stati sequestrati dai carabinieri forestali ed era stata riscontrata la presenza di amianto dieci volte sopra i limiti di legge. L'ultima inchiesta, la più recente, è quella che riguarda il viadotto Puleto sotto sequestro per rischio crollo ed ancora chiuso ai mezzi sopra le 30 tonnellate. Per la riapertura totale si dovrà infatti attendere la perizia del professor Claudio Modena che sarà consegnata tra qualche settimana.